unità didattica ci siamo lasciati dicendo che la input risoluzione non è completa ma lo diventa se applicata a clausole di ORN. Proprio questo concetto, input risoluzione applicata a clausole di ORN, costituisce il fulcro dell'argomento di questo modulo didattico che è dedicato appunto alla risoluzione cosiddetta SLD che è una risoluzione lineare, come vedremo, di input con funzione di selezione dell'atomo su cui risolvere applicata a clausole programma definita, cioè in pratica clausole di ORN. Vedremo appunto come questa risoluzione, pur essendo una input risoluzione, è completa, ovviamente è corretta ma è anche completa. Poi vedremo dei motivi per cui il prologo tradizionale in realtà perdono questa proprietà della completezza. termineremo il modulo didattico parlando dei cosiddetti programmi normali, cioè programmi che poi introdurranno il simbolo di negazione, come vedremo, nel corpo delle clausole. Allora partiamo quindi, stiamo parlando della semantica dichiarativa dei programmi definiti, poi nel prossimo modulo didattico cominceremo a vedere il prolog e introdurremo anche la cosiddetta semantica procedurale del prolog. Attualmente stiamo considerando ancora la programmazione logica vista come figure improving e non come approccio alla programmazione. Quindi siamo ancora interessati a semantica dichiarativa dei programmi definiti. Allora il primo concetto che dobbiamo vedere è quello di modello di minimo di Airbrand. Si apie un programma definito e abbiamo introdotto l'altra volta il concetto di base di Airbrand. Diciamo subito che la base di Airbrand è un modello per il programma definito. Per quale motivo? Perché praticamente la base di Airbrand rende vere tutte le teste delle clausole e siccome basta rendere vere un letterale per rendere vera la clausola, ecco che la base di Airbrand è sicuramente un modello e quindi abbiamo anche implicitamente dato un altro concetto che ai più magari sfugge e cioè un programma prolog, cioè un programma definito, non può mai essere contraddittorio. Perché avrà sempre un modello e il modello male che va è la base di Airbrand, male che andasse sarebbe la base di Airbrand stessa. Quindi un programma definito non può mai essere contraddittorio. La base di Airbrand è sicuramente un modello. Beh, dato un programma definito, cioè un insieme di clausole e programma definite, prendiamo in considerazione l'insieme dei suoi modelli di Airbrand, che sarebbero l'insieme dei sottinsiemi della base di Airbrand che sono modelli per quel programma. Allora, se facciamo l'intersezione di tutti questi sottinsiemi della base di Airbrand che sono modelli per il programma, otteniamo un insieme, ancora un sottinsieme della base di Airbrand che è detto modello minimo di Airbrand. Bene, si prova che questo modello minimo di Airbrand è costituito da tutti gli atomi che appartengono alla base di Airbrand, tutti e soli gli atomi che appartengono alla base di Airbrand che sono una conseguenza logica del programma P. Facciamo un esempio. Supponiamo di avere questo programma prologue, io dico così, ma insomma questo programma definito che è costituito da 1, 2, 3 clausole di programma definite. Vediamo che abbiamo U, P, Q come predicati, non abbiamo simboli di funzione, abbiamo due simboli costanti A e B, per cui non avendo simboli di funzione la base di Airbrand sarà costituita dal numero finito di elementi, ed eccola qua, l'ho riportata qui. e questa base di Airbrand è sicuramente un modello per questo programma. Perché? Perché se li prendiamo tutti quanti, gli atomi ground che costituiscono la base di Airbrand, questi qui rendono vera sia P di XZ che P di XX che Q di AB, infatti Q di AB è vero, eccolo qua, Q di AB. P di XX è vero perché abbiamo P di AA e P di BB, e P di XZ è vero perché ce li abbiamo tutti. P di AA, P di BB, P di AB, P di BA e quindi anche la 1 è vera perché abbiamo rese vere tutte le teste di queste clausole. Ok, anche se la base di Airbrand del modello non è l'unico, ce ne sono altri, e se facciamo l'intersezione di tutti questi modelli otteniamo questo insieme qui, che sarebbe un sottinsieme della base di Airbrand, con quello che abbiamo messo in verde, dagli atomi che abbiamo messo in verde, e questo sottinsieme della base di Airbrand è il cosiddetto modello minimo di Airbrand, cioè è l'insieme degli atomi ground che sono effettivamente conseguenza logica del programma. Infatti P di A deriva dalla 2, come anche P di BB, dopodiché Q di AB deriva dalla 3 e P di AB deriva dalla 1, tenendo presente che sono vere, se andiamo a mettere la A sulla X e la B sulla Z, questo sarebbe Q di A qualcosa e questa Y è B, se la Y è B questa è vera, dopodiché essendo questa Y è B, P di B è vera perché ce l'abbiamo qui, ecco quindi abbiamo che anche P di AB è vera, è conseguenza logica, cioè di questo programma. Che cos'è a questo punto la risposta corretta per definizione? Se hanno P un programma definito, se hanno P una sostituzione sulle variabili in G. Diciamo che T è una risposta corretta per P unito G se applicata questa risposta agli atomi che costituiscono il goal, messi in end, eventualmente qualora la risposta non sostituisse tutte le variabili, chiudendo universalmente questo end sulle variabili che non sono state eliminate da θ, sappiamo che tutta questa espressione qui è conseguenza logica di P, è una definizione, quella che abbiamo appena dato, di risposta corretta. O che cosa abbiamo adesso? Che se la risposta in questione elimina praticamente tutte le variabili che compariranno nel goal, e quindi è una sostituzione ground per tutti i letterali compariranno nel goal, l'end dei letterali compariranno nel goal modificati alla luce della sostituzione θ è ground, quindi a questo punto possiamo dire che θ da sola è corretta, non c'è bisogno di mettere la quantificazione qui universale, e poi diciamo che a1, end, end, an, se vi lo vedete, è vera rispetto ad ogni modello di Erbland e quindi è vera in particolare rispetto al modello minimo di Erbland. Questo è sostanzialmente il concetto di risposta corretta. Vediamo cos'è adesso, un concetto importante è quello della derivazione SLD. Dopodiché vedremo cos'è la risposta prodotta da una calcolata da una derivazione SLD e vedremo che le risposte calcolate sono risposte corrette. Dunque, supponiamo di avere un goal G dato da l'end di questi letterali e supponiamo di avere una clausola C all'interno del programma definito di questa forma. Un eventuale goal G' può essere derivato da G e da C utilizzando un certo mos genero di unifier θ se si verifiono queste condizioni. C'è un atomo, diciamo AM, all'interno del goal che unifica con la testa della clausola C alla luce di un MGU θ. Allora, se c'è questo atomo che unifica con la testa della clausola alla luce del mos genero di unifier θ, se noi prendiamo tutti i restanti atomi del goal cioè tutti quelli del goal meno l'atomo su cui si è risolto e prendiamo tutti gli atomi che compaiono nel corpo della clausola A mettiamo tutti quanti all'interno del nuovo goal nuovo risolvente G' avendo applicato a tutti questi letterali la sostituzione θ bene, quello che abbiamo è il nuovo risolvente della clausola C e del goal G. Cioè, in pratica, quello abbiamo fatto è che abbiamo preso un goal G abbiamo cercato all'interno di questo goal un atomo che unificasse con la testa di una qualche clausola nel programma definito alla luce di un qualche unificatore θ in mos genero e a questo punto abbiamo risolto abbiamo applicato il principio di risoluzione che abbiamo visto questo è un passo di una input risoluzione in quanto che è lineare perché si prende come uno di due risolventi il risolvente calcola dal passo precedente è un goal è di input perché l'altra clausola in cui risolve è per forza una delle clausole di un programma definito non è previsto che sia un altro goal a un passo precedente quindi quello che si va a produrre come vediamo fra un attimo è un nuovo goal e il nuovo goal è esattamente la stessa natura che abbiamo visto nell'unità didattica precedente allora alla luce di quello che abbiamo visto abbiamo appena detto una derivazione sld da un programma p unito a un certo goal g consiste in una sequenza che può anche essere infinita di goal il primo goal è il goal g originario e poi gli altri vengono prodotti con questa metodica che abbiamo appena visto e quindi però questa metodica farà uso di clausole c1 c2 che appartengono al programma originario però tenete presente che ogni volta che si riutilizzano la clausola in pratica come sapete vi ricorderete che all'interno di clausole diverse le variabili che hanno lo stesso nome comunque vengono considerate variabili diverse e quindi possiamo dire che queste clausole che utilizzeremo lungo questa derivazione sono varianti delle clausole del programma p poi avremo questo è molto importante una sequenza di mgu θ1 θ2 che verranno utilizzate di volta in volta nel corso di questa per unificare la clausola di programma e il goal corrente all'interno di questa derivazione θ1 sarà il primo θ2 sarà il secondo e così via fino a un certo goal G1 G1 che appunto sarà durato da G1 utilizzando la clausola utilizzando la clausola del passo corrente e il goal derivato al passo precedente questo è il concetto di derivazione se la derivazione finisce con la clausola vuota cioè l'ultimo goal Gn è la clausola vuota diciamo che abbiamo prodotto una rifutazione e quindi sostanzialmente abbiamo provato come abbiamo visto nel modulo precedente che P unito G è insoddisfacibile allora diciamo chiamiamo insieme di successo questo SP alla luce di un programma definito chiamiamo insieme di successo insieme di tutti gli atomi che appartengono alla base di Erbrand tali per cui se io lancio questi atomi come goal e li do come goal al programma produciamo una rifutazione SLD questo è il concetto di insieme di successo e associato a questo concetto c'è il concetto di risposta calcolata che dato un programma P è un goal G una risposta calcolata è una sostituzione ed è la sostituzione che si si ottiene prendendo una rifutazione posto che ci sia una rifutazione per P unito G cioè una derivazione SLD come abbiamo appena visto che termina con la clasula vuota componiamo fra di loro come abbiamo visto nel precedente modulo diattico tutte le sostituzioni che abbiamo utilizzato lungo quella rifutazione dopodiché restringiamo la composizione che abbiamo ottenuto alle sole variabili che comparivano nel goal G originario quello che otteniamo si chiama risposta calcolata e si prova è stato uno dei risultati più importanti della programmazione logica che ogni risposta calcolata per P unito G è anche una risposta corretta e poi adesso farò un paio di esempi che cercheranno di chiarire meglio questo concetto in pratica questo equivale a dire che se esiste una rifutazione SLD per P unito G allora P unito G è insoddisfacibile ovvero equivale a dire che l'insieme di successo SP è un sottinsieme del modello minimo di Airbrand cioè stiamo dicendo che tutte le risposte calcolate che si ottengono a partire da una qualche rifutazione per P unito G sono corrette questo l'abbiamo appena visto dopodiché applicando queste risposte calcolate all'atomo A che abbiamo lanciato come goal produciamo quindi un atomo ground e questo atomo ground appartiene al modello minimo di Airbrand questo risultato sostanzialmente ci fa stare tranquilli per noi andiamo a lanciare una input risoluzione SLD facendo la composizione di tutte le sostituzioni che abbiamo utilizzato lungo il percorso restringendo questa composizione ai soli variabili comparibili nel goal originario se il goal originario era un atomo produciamo un atomo che è conseguenza logica ground produciamo un atomo ground che è conseguenza logica del programma quindi quindi sostanzialmente questi enunciati questi enunciati riguardano la correttezza della procedura di risoluzione SLD ma c'è da dire che come avete abbiamo visto questo concetto si basa sul concetto di most general unifier in particolare di unificatore cioè più in generale di unificatore e purtroppo possiamo dire che dobbiamo dire che i prolog essendo Ture Improver che però sono stati pensati non per fare prova di Turemi ma per realizzare dei programmi e quindi sono stati più incentrati sulla semantica procedurale come vedremo piuttosto che su quella dichiarativa per motivi di efficienza tralasciano quel controllo che abbiamo visto a suo tempo quando abbiamo fatto l'algoritmo di unificazione denominato dello CURCHEC e quindi in pratica questo porta a far sì che questo risultato che abbiamo appena visto che parla di correttezza della risoluzione SLD in realtà non valga per il prolog facciamo un esempio supponiamo di avere questo programma considerato queste due clausi programma definite test se P di XX e P di Y F di Y se niente quindi questa è una clausola unità un fatto questa è una clausola normale dove c'è un atomo che è composto da solo un predicato senza argomenti se io lancio il goal test che veramente qui in questo slide non ho riportato abbiamo che test unificherà con questa clausola e quindi il primo goal sarà costituito da P di XX dopodiché P di XX mi andrà a unificare con questa clausola qui perché la X unificherà con la Y dopodiché questa F di Y sarà diventata F di X e questa X unificherà con questa F di X ma questo a rigore non si può fare cioè l'algoritmo di unificazione che abbiamo visto l'altra volta impedirebbe di unificare X con F di X perché non si può unificare una variabile con un termine che contiene la variabile stessa questa sarebbe la stessa variabile perché precedentemente ci sarebbe stata unificazione fra X e Y allora il prolog ignora questo per cui risponderà sì come vedremo potete lanciarlo sullo sbuo i prolog questo programma qui e lanciate con il goal freccia test cioè lanciate il goal test e vedete questo qui risponde yes anche se in realtà test non è una conseguenza logica del programma perché basta dare una qualunque interpretazione per esempio ad F la funzione successore e questa P essere una funzione che dice minore quindi è vero che un dato numero è minore del suo successore certamente sì quindi questa è l'interpretazione che rende vera questo fatto questa qui sarebbe comunque vera perché sarebbe falso l'antecedente è falso che un numero è minore di se stesso essendo falso l'antecedente la clausola questa qui comunque è vera quindi sarebbe questa qui che rende vera il modulo ma non sarebbe vero appunto test perché in particolare non sarebbe vero il goal che dice che P è un numero minore di se stesso e quindi questo sarebbe un risultato scorretto se facciamo una piccola modifica e la seconda clausola la scriviamo in questa maniera a maggior ragione qui abbiamo due volte la la violazione dello kurcek una all'inizio e poi anche qui quando questa clausola come vedete che è una clausola ricorsiva perché a un certo punto abbiamo il goal Pdxx che unifica con questa diventa il goal Pdx fdx che non dovrebbe poi unificare con questa ma riunifica di nuovo con questa e questa diventa un loop infinito in realtà se avessimo adottato il test dello kurcek tutte queste unificazioni non le avremmo potuto fare per cui non sarebbe andato in un loop infinito qui l'errore del fatto che il prologue non fa lo kurcek porta a una conclusione errata cioè il prologue risponde sì quando invece avrebbe potuto rispondere no qui invece porta in un loop infinito quando invece avrebbe potuto rispondere no quindi il primo motivo per cui i prologue tradizionali non sono corretti che vediamo poi ci torneremo anche è perché non implementano il test dello kurcek quindi il prologue non è un team improver corretto il prologue però è un linguaggio di programmazione poi vedremo la risoluzione sld il più importante risultato che è stato provato all'interno della programmazione logica non solo è corretta ma anche completa cioè si prova che il sp che abbiamo visto lo ricordiamo è l'insieme di successi tali per cui se li lanciamo come goal e li diamo al programma allora otteniamo una risoluzione sld una rifutazione sld questo insieme non esistono non esistono atomi del modello di Erbrand minimo atomi ground cioè quindi non esistono atomi ground conseguenza logica del programma P tali per cui se io li lanciassi come goal non otterrei una rifutazione una rifutazione non esistono quindi potremmo star tranquilli sulla competenza del prolog come Tiro Improver sia P un programma definito G un goal definito se P unito G è insoddisfacibile allora esiste una rifutazione sld per P unito G generalizziamo il concetto questo ripeto non lo proviamo ma sono dei risultati che hanno fatto la storia della programmazione logica ancora per ogni risposta corretta T per P unito G esisterà una risposta calcolata T per P unito G e una sostituzione gamma tale per cui T la possiamo ottenere dalla risposta calcolata sigma utilizzando la sostituzione gamma questi sono i risultati che ripeto fanno star tranquilli circa la completezza della risoluzione sld che avevo detto non potesse essere completa nel modulo precedente perché è una input risoluzione però il risultato che abbiamo appena visto contraddice questo che abbiamo detto l'altra volta ma lo contraddice in realtà non è una contraddizione perché la risoluzione sld è una risoluzione sld ma applicata a particolari clausole che sono una clausola di programma definita cioè clausole di horn adesso vediamo un attimino questo risultato che abbiamo appena visto è in generale in generale nel senso che prescinde dalla scelta del particolare del criterio con cui si sceglie il particolare atomo all'interno del gol su cui risolvere c'è del particolare atomo che dovrebbe unificare con la testa di una clausola se torniamo indietro mi ricordate che la sld presuppone che ci sia un atomo all'interno del gol corrente selezionato l'abbiamo chiamato am che poi unificherà con la testa di una qualche clausola ma non l'abbiamo definito qual è il criterio per selezionare quell'atomo la domanda è questa se io vado a fissare il criterio e quindi non rendo del tutto arbitrario cioè non deterministico la scelta di questo atomo ma lo fisso il criterio per esempio prendere sempre l'atomo più a sinistra o prendere sempre l'atomo più a destra o cose di questo genere non è che per caso perdo il risultato della completezza della corretezza no perché la corretezza rimane ma limitando i criteri della vi ricordate nell'algoritmo originale che abbiamo visto l'altra volta quello che parla di risoluzione a un certo punto si dice si prendono due clausole all'interno dell'insieme di clausole che abbiamo per vedere se è possibile trovare due letterali che risolvono nel caso della risoluzione lineare abbiamo detto che una delle due clausole deve essere il risolvente che accorta al passo precedente e l'altra deve essere una risoluzione di input nel caso di risoluzione di input però la scelta sui due letterali tra i due clausole su cui risolvere non è stata specificata adesso quello che facciamo è questo definiamo una regola di computazione che è una funzione che da un insieme di goal definiti da un insieme di atomi tale che il valore della funzione per un goal è un atomo detto atomo selezionato in quel goal cioè stiamo parlando questa regola di computazione altro non è che la funzione di selezione S di cui si parla nella SLD SLD vuol dire risoluzione lineare per clausole di programma definite con funzione di selezione S che sarebbe questa regola di computazione se P è un programma definito G è un goal definito R è una regola di computazione allora chiamiamo derivazione o refutazione se termina con la clausola vuota una derivazione o refutazione in cui è stata utilizzata sempre quella particolare regola per selezionare l'atomo all'interno del goal corrente il goal corrente aveva sette atomi qua la andiamo a prendere per cercare una clausola la cui testa possa unificare con questo atomo quello più a sinistra bene questa è una regola di computazione risposta R calcolata sarebbe una risposta che viene calcolata utilizzando nella refutazione quella regola di computazione il teorema è questo qui supponiamo che esista una refutazione SLD per più di G con sigma come risposta calcolata allora per ogni regola di computazione R esiste una refutazione SLD per più di G di R con risposta a una calcolata sigma tale che applicando sigma primo al goal di genero G si ha esattamente la stessa cosa che si ha applicando sigma a G come sostituzione a parte un'eventuale differente nominazione delle variabili quindi in pratica sostanzialmente abbiamo la stessa cosa ovvero anche un altro modo per rinunciare allo stesso risultato se più di G è insoddisfacibile allora esiste una refutazione SLD per più di G via R cioè se esiste un ramo una derivazione che mi produce alla fine la clausola Uoda avendo non specificando il criterio con cui selezionare l'atomo ogni volta nei goal e quindi lasciando del tutto arbitrario quindi ci potrebbe essere un po' di chiaroveggenza in questa in questa procedura beh siamo tranquilli perché anche se noi fissiamo la regola comunque la refutazione la troviamo lo stesso magari quello che potrebbe accadere è che facendo la composizione di tutte le sostituzioni che sono state utilizzate all'interno di quella refutazione alla fine abbiamo una risposta che è una variante una variante alfabetica nel senso che le variabili sono nominate in maniera diversa però sostanzialmente sarebbe una soluzione equivalente a quella che avremmo comunque trovato non fissando la regola di computazione quindi i prolog effettivamente è così utilizzano come regola quella di prendere sempre l'atomo più a sinistra nel gol corrente per provare per cercare una clausola la cui testa possa unificare con quel gol si prende sempre l'atomo più a sinistra nel gol corrente questa fissità non compromette la possibilità di trovarla effettivamente la clausola vuota cioè di provare che l'insieme P unito G è insoddisfacibile quello che vediamo adesso invece è stato un risultato importante nella storia della programmazione logica perché ha detto che qualunque funzione che si può calcolare con un qualunque algoritmo quindi con una macchina di Turing quindi con qualunque linguaggio di programmazione si può comunque calcolarla anche mediante un programma definito e un gol opportuno vediamo sono stati enunciati tanti teoremi di questo genere questo ne è uno sia f una funzione calcolabile da una macchina di Turing allora esiste sicuramente un programma definito pf cioè un insieme di clausi di programma definite e una lettera predicativa a n più un argomenti p piccolo di f tali che tutte le risposte calcolate che si ottengono a partire dal programma p maiuscolo f e il gol p piccolo f dove abbiamo qui come argomenti n argomenti che sono n diversi numeri naturali successori dallo zero e l'n più unesimo argomento essendo una variabile alla fine se lanciamo questo gol la rifutazione terminerà con un gol con una risposta che assegnerà ad x un numero e questo numero che x assegna che la procedura di rifutazione assegnerà ad x sarà il cappesimo successore di zero dove k è proprio il valore che assumerebbe la funzione se fosse applicata a k1 k2 e kn come variabili indipendenti cioè in pratica se abbiamo che k è f di k1 e kn noi possiamo lanciare il gol pdf dando il k unesimo successore di zero come primo argomento e così via fino al k enesimo successore di zero come enesimo argomento al gol il gol farà sì che la variabile x sarà istanziata proprio al cappesimo successore di zero e quindi a k sostanzialmente se k è f di k1 kn questo per qualunque funzione di touring questo è stato un altro risultato molto importante nella storia della programmazione logica che ha tranquillizzato in qualche maniera i ricercatori dicendo beh se andiamo avanti su questa strada non è che ci saranno delle funzioni che sono calcolabili da una macchina di touring e quindi sono implementabili da un qualunque algoritmo e non sono restituibili come risposte calcolate da un programma dichiarativo no non è vero saranno sicuramente restituite da un programma dichiarativo punto con un programma definito certo è che non è detto che fare un programma dichiarativo cioè un programma in prolog per capirci sarà poi il modo più efficiente per avere il risultato K a partire da K1 Kn ecco cioè ovviamente altra cosa è l'efficienza l'efficienza probabilmente potrebbe penalizzare l'approccio dichiarativo bene allora andiamo a definire l'ultimo concetto di questa unità didattica e cioè l'albero SLD che cos'è un albero SLD in pratica è un albero che soddisfa queste condizioni ogni nodo è un gol definito il nodo originario da cui parte l'albero cioè la radice è il gol G dopo di che supponiamo di avere un nodo dell'albero A1 A2 AM AK e supponiamo AM sia l'atomo selezionato allora per ogni clausola di input tale per cui AM ed A sono unificabili con un certo unificatore più generale θ si ha un figlio questo figlio è il risolvente che si ha a partire da quel gol e quella clausola e quindi a questo punto siccome ci possono essere più clausole con la cui testa l'atomo selezionato può unificare è chiaro che da questo nodo qui ci potranno essere più figli cioè tanti figli quanti sono le clausole del programma definito con la cui testa l'atomo selezionato in questo caso AM può unificare ecco che si genera quindi un albero questo albero poi avrà delle foglie e le foglie possono essere di due tipi si chiamano foglie successo le foglie che sono consiglie da clausola vuote cioè in pratica si è vuotato il gol originario praticamente avendo poi unificato tutti gli atomi con delle clausole del programma unità di fatto è diventata la clausola vuota e questi sono nodi successo successo perché effettivamente lungo quel percorso siamo riusciti ad arrivare ad una refutazione quindi abbiamo provato che l'insieme più unito G è insoddisfacibile ma ci sono altre possibili foglie torniamo di nuovo indietro che vengono detto foglie fallimento torniamo di nuovo indietro all'algoritmo generico se ve lo ricordate per fare l'algoritmo di risoluzione generico c'era il passo centrale che diceva trovate due clausole distinte e risolvibili all'interno di S risolvetele e poi il risolvente mettetelo in S ripeto due clausole distinte e risolvibili sottinteso che non abbiamo già utilizzato in un passo precedente per risolverle e che non abbiamo neanche risolto con la stessa coppia di letterali se succede che due clausole distinte e risolvibili che non siano già state utilizzate per produrre un risolvente in precedenza non si trovano più allora vuol dire che l'algoritmo termina e termina per fallimento cioè non siamo riusciti a trovare la clausola vuota non riusciamo più a trovare due clausole distinte e risolvibili comunque l'algoritmo a questo punto termina ma termina dicendo con una risposta importante dicendo che l'insieme di clausole di portenza non è insoddisfacibile cioè è soddisfacibile non siamo riusciti a produrre la clausola vuota non c'è verso di provarla abbiamo tentato tutte le strade la clausola vuota non l'abbiamo trovata questo può accadere anche se la logica del primo ordine è semidecidibile può accadere in certi casi accade ma non è detto che accada sempre questo è il problema della semidecidibilità ci potrebbero essere dei casi in cui sempre all'infinito si troveranno due clausole distinte e risolvibili e mai all'infinito si potrebbe arrivare a produrre la clausola vuota allora è vero che l'albero potrebbe avere dei rami infiniti ma se ha dei rami che finiti questi rami termineranno con foglie successo se sono acquisiti con la clausola vuota con foglie fallimento in cui accade che il gol corrente ha un atomo selezionato che non è unificabile con la testa di alcuna clausola allora in questo caso si dice che lì a quel punto la computazione termina quello diventa un nodo foglia non ha più figli perché non unifica quell'atomo selezionato con la testa di alcuna clausola punto non è un nodo una foglia successo perché non è una clausola vuota e lungo quel percorso abbiamo raggiunto un fallimento bene i rami come ho detto prima possono avere anche delle lunghezze infinite sia R è una regola di computazione un albero SLD per più unito G via R è un albero SLD R per più unito G in cui tutti gli atomi sono stati selezionati da una particolare regola di computazione R quindi se noi fissiamo la regola di computazione avremo un albero cambiando la regola di computazione potremmo avere un altro albero però appunto qui adesso ci fermiamo questo lo vedremo nella prossima unità didattica grazie a tutti